buongiorno benvenuti al terzo appuntamento del ciclo piscine chiuse idee in movimento una serie di cinque incontri organizzati da so sport l'associazione confindustriale dei produttori di articoli sportivi acquanette l'organizzazione che riunisce i gestori degli impianti natatori e il magazine api aquatics oggi parleremo di digitalizzazione un processo su cui covi da accesi riflettori evidenziandone il ritardo per il nostro paese ma anche il ritardo per alcuni settori rispetto ad altri rispetto ad altri l'approccio delle persone come ormai abbiamo capito e sappiamo tutti è radicalmente cambiato si è innescata un'evoluzione nelle abitudini dei consumatori che sta trainando imprese e istituzioni anche nel mondo delle piscine è fondamentale quindi mantenere il passo con le abitudini del proprio target e anche sfruttare le potenzialità di questo cambiamento digitalizzazione però comprende molte fasi diversi ambiti dell'attività e quindi oggi ci concentreremo su alcuni step cruciali direi quasi rinunciabili in questo momento per avere massimi risultati in tempi brevi e con un occhio anche alla sostenibilità dei costi e per farlo abbiamo riunito attorno a questo tavolo digitale 50 anni di esperienza nel mondo del digitale e dello sport avevo promesso che l'avrai detto quindi ho detto quindi con piacere do il benvenuto ad Andrea Menotti CEO di Sportric Tech gruppo Zucchetti Gianluca Scazzosi consulente e ultimo ma non certo per importanza Fausto Zordi Sales Manager Business Unit Wellness di Team System obiettivo sarà condensare la nostra conversazione in 30 minuti lascio quindi la parola ad Andrea che saprà sicuramente stimolare il dialogo nella maniera migliore grazie Andrea ok Sara certo che ci dai 30 minuti per colmare un gap forse di 15 anni però ci prendiamo a condensarla così soprattutto grazie a Fausto e Gianluca che sapranno essere incisivi allora io non perdo tempo e la prima domanda per me è subito per Gianluca perché sono passati quasi 12 mesi il rapporto col mercato per i nostri gestori è molto difficile da tenere caldo che diciamo così come iniziare un nuovo dialogo perché penso bisogna parlare di un nuovo dialogo col mercato il settore piscina parla agli 0 90 anni da dove iniziare e come fare? Allora abbiamo detto che parleremo di digitalizzazione quindi digitalizzazione significa creare processi fluidi di comunicazione quindi dato che i gestori gli operatori devono parlare a questa fascia di età a questi segmenti demografici così differenti la prima cosa da fare dal mio punto di vista è quella di inquadrarli di analizzarli vedere con chi abbiamo a che fare appunto da 0 a 90 e la risposta di queste persone è diversa a seconda della loro abitudine di comunicazione quindi la prima cosa da fare a mio avviso è quella di capire la segmentazione che abbiamo di fronte dal punto di vista demografico perlomeno dell'età dopo sulla base di quella cercheremo di comunicare con loro con lo strumento più adatto quindi una sorta di multicanalità che è quello che normalmente viene già utilizzato però in modo un po' più strategico ecco questo è quello che mi viene da suggerire. Allora passiamo la palla a Fausto perché sul come farlo credo che dobbiamo fare un passaggio importante nel senso che multicanalità e tecnologia sono sicuramente la base per la comunicazione della digitalizzazione. Uno spunto concreto Fausto da dove iniziamo? Bisogna iniziare dallo strumento che si ha in casa quindi andare nell'analizzare i dati come ha detto Gianluca è la cosa fondamentale. Di sicuro l'anagrafica deve contenere una serie di informazioni che così ci danno la possibilità di andare a comunicare come diceva Gianluca cioè dovrò mandare delle comunicazioni ai clienti andando a prendere i bambini che frequentavano la scuola nuoto, andando a prendere i ragazzi che frequentavano la scuola nuoto, andando a prendere gli anziani che frequentavano dei corsi di dinastica dolce quindi devo andare a targettizzare queste comunicazioni perché poi nel momento in cui riesco a elaborare con qualsiasi strumento che sia un sistema gestionale spero non un foglio excel perché è molto più complesso ma un sistema gestionale ci dà questa opportunità qua, a quel punto riesco a comunicare. Come? Posso comunicare in diversi modi, posso definire un invio di un sms che forse ancora oggi è lo strumento che ci permette di avere maggior garanzia di lettura da parte del cliente, posso comunicare attraverso una mail, cioè ci sono persone che usano la mail tanto quanto un messaggio ma sicuramente può avere meno efficacia di un sms. Posso comunicare attraverso un'applicazione se esiste già un'applicazione, mandare una notifica, mandare qualcosa, quindi andare a targettizzare è sicuramente fondamentale, cioè quello che diceva Gianluca è quello che farà la differenza per la ripartenza perché dovremmo considerare che sono quasi, è come oggi il gestore ha preso di nuovo l'impianto, è la sua prima apertura e deve andare a riprendere la gente. Se si riesce anche a diversificare sulla base di chi era attivo dopo l'ultimo lockdown, chi era attivo un anno fa, chi frequentava o chi non frequentava è ancora meglio, quindi lo strumento digitale sicuramente ci dà il supporto. Poi Gianluca sarà bravissimo a costruire i testi e i contenuti per comunicare al meglio, quindi io mi fermo allo strumento. Allora Gianluca quali sono le caratteristiche fondamentali di questo processo di comunicazione digitale, cioè cosa deve contenere, cosa deve identificare, con che caratteristiche deve dialogare con questi utenti? Sicuramente il messaggio in questa fase in modo particolare deve essere un messaggio di tranquillità, di serenità, perlomeno prima di tutto di comunicazione. Io quello che ho notato succedere in questi periodi, primo lockdown, seconda chiusura, è che la reazione dei gestori e degli operatori è stata prima di tutto reattiva e non tanto proattiva nella prima fase. Nella seconda fase magari un po' più proattiva però non progettata, non è stata progettata con una sequenza specifica. Quindi tornando alla tua domanda, cosa bisogna dire? A mio avviso oggi bisogna tenere continuamente una comunicazione continua che dice quello che facciamo, quello che ci piacerebbe fare appena abbiamo le informazioni, come stai caro cliente, in qualunque o caro utilizzatore del mio impianto, in qualunque situazione tu sia, cioè ti faccio sentire la mia presenza. E poi passo dopo passo, continuamente, si chiama piano editoriale questo, adesso senza entrare troppo nei dettagli tecnici perché diventa troppo complesso, però piano editoriale significa farsi una scaletta delle cose che voglio dire per ottenere un obiettivo di comunicazione. Quindi sintetizzando, intanto stiamo vicini, io ti dico quello che faccio, ti chiedo che cosa stai facendo tu e poi ti do gli strumenti per tornare a comunicare con me nel momento in cui io riaprerò in forma ridotta, in qualunque siano poi le restrizioni che mi saranno date. Però l'importante è che abbia una sequenza. Oggi si parla molto di storytelling, devo raccontare la mia storia, ti chiedo la tua storia e teniamo questo filo continuo affinché digitalmente rimaniamo collegati. Fausto, io ti volevo chiedere questo. Gli utenti sono cambiati. Nell'ultimo anno mi viene in mente il cashback, l'app Io, ma anche con la sua nefasta parabola l'app Immuni. La tecnologia è entrata pesantissimamente nel quotidiano di tutti questa volta. Io immagino, come te ho sentito tante volte, le obiezioni dei gestori era, ma il pubblico non è preparato a questa digitalizzazione che voi proponete. Allora, scusami, ho gamba tesa con questa provocazione. È preparato o no questo pubblico alla digitalizzazione? Guarda, mi fai un bel assist perché avrei risposto anche a quello che ha appena detto Gianluca, nel senso che Gianluca ha parlato di piano editoriale e tu mi fai questa domanda. Oggi, nella testa degli utilizzatori, ma non parliamo solo delle piscine, guardiamo anche noi stessi quando utilizziamo tutti i giorni la tecnologia per fare un servizio. Oggi la prima cosa che fa un potenziale cliente finale è andare a controllare sul web cosa si può fare. Banalmente, faccio un esempio, oggi le poste, se vai in posta, trovi la coda. Chi è avvento alla tecnologia e ormai è sempre di più, perché quando vai alle poste trovi la coda, purtroppo è quella fascia d'età che è un po' più avanzata, lì in posta ci vai prenotandoti con l'app. Quindi, il cliente finale oggi si aspetta una comunicazione, un piano editoriale, va a cercare informazioni della piscina su una pagina Facebook, quindi sono molto più digitalizzati di quello che noi crediamo. Anche perché nella vita di tutti i giorni, la gente che va in piscina, in palestra o qualsiasi altra parte, lavora online oggi, per qualsiasi cosa. Prima mi informo online e poi mi informo direttamente al centro. Ricordo un aneddoto di qualche anno fa di un gestore, non ricordo chi era, che parlavamo e mi diceva, tutti mi dicono che sono calati vertiginosamente i tour spontanei, lì accessi in piscina a vedere il mio impianto per capire, per acquistare. E lui mi ha risposto dicendo, forse non è vero che sono calati i tour spontanei, sono calati i tour spontanei reali, vanno online, fanno i tour spontanei sul sito, guardano, da lì scegliono e poi vengono, quindi non fanno più il giro in macchina di tutte e dieci le piscine della zona, ma vanno da quelle tre che hanno comunicato meglio, hanno fatto lo storytelling migliore. Penso sia una grossa verità che oggi il Covid ha accelerato e ha enfatizzato in maniera evidente. Gianluca, allora, parola chiave hai detto raccontarsi, raccontarsi su un processo digitale, raccontarsi a un pubblico vasto, benissimo, e una volta che ci siamo raccontati, cosa dobbiamo fare con questi utenti? Si parla molto che oggi andare su un mercato vuol dire dialogare con il mercato, spiegaci come dialoghiamo con questo mercato. Allora, dialogare vuol dire tanto, dialogare intanto significa un processo che non è in un'unica direzione, ma anche domanda e risposta, quindi io ti metto un messaggio, tu mi rispondi, io rispondo al tuo messaggio e viceversa. Poi sai, nel linguaggio del marketing, per rispondere in modo puntuale alla tua domanda, cosa bisogna fare? Alla fine di ogni processo comunicativo da parte dell'operatore ci deve essere, quello che si dice in gergo, una call to action. Quindi io, sì, in questa fase qui comunico per capire cosa stai facendo, ti dico che cosa faccio io, poi alla fine però ti devo dare un messaggio, ti devo dire qualcosa affinché tu ti muova. Io credo che il messaggio principale in questa fase sia quello di abbassare il livello di paura del nostro consumatore per ritornare in qualche forma nel nostro impianto, perché questo sarà una barriera molto significativa da superare. Poi, tornando velocemente a quello che dicevamo prima, la paura dell'operatore è quella che il consumatore finale non è ancora pronto la digitalizzazione, invece come diceva Paolo, è il contrario. Sono i gestori che devono switchare la propria forma mentis sull'utilizzo degli strumenti, sono loro che hanno ancora paura di utilizzare gli strumenti per comunicare i giusti contenuti al proprio bacino d'utenza. Quindi cosa? Il cosa è questo, cioè abbassa le difese di paura che hai, torna a fare attività con noi e ti do un contenuto che ti fa accendere la lampadina e dice torna a farlo adesso. Ora, senza entrare nel dettaglio di quello che sono poi le strategie promozionali, però questo viene dopo. Prima dobbiamo avere la forma mentis per farlo. Fausto, io ti volevo chiedere questo, perché la digitalizzazione è anche disintermediazione, cioè ovvero oggi il gestore, per sapere cosa pensa l'utenza, spesso chiede alla receptionista, ai più evoluti chi dà il commerciale, a volte fanno sondaggi, che però sappiamo fare domande aperte, dirette, spesso ti fa raccogliere risposte un po' tendenziose. Invece con la digitalizzazione l'utente lascia una traccia diretta del suo comportamento. Cioè, come dicevi tu prima, non è tanto se mi piace il corso nuoto adulti, è proprio che quella pagina del sfido magari è più vista di altre, ipotesi, no? Quindi, come sfruttare anche la digitalizzazione in termini di raccolta informazioni strategiche? Qui si entra su un bel capitolo, Andrea, perché informazioni strategiche volendo se ne possono raccogliere in maniera diversa. Pensa banalmente a una piscina oggi con un banale tracciamento degli accessi, il controllo accessi. Su molte piscine è ancora uno scoglio che non c'è. Quindi, di fatto, da avere un tracciamento degli accessi potrebbe essere un dato che mi permette di capire quando frequenta, che ora frequenta e mi dà un'informazione. E questa la fai con uno strumento gestionale. Ma poi, come dici tu, posso andare a vedere anche quando il cliente utilizza Facebook, se guarda la mia pagina, se guarda il mio sito web, se guarda quella pagina e quel corso. Ci sono strumenti che portano addirittura a questo. Cioè, possono sapere prima che Fausto ha aperto la richiesta magari dal sito web, da quel form per il corso di Aquagym. Quindi, avere anche queste informazioni, digitalizzarlo anche da quel lato, da quel punto di vista, diventano di rilevanza fondamentale perché non è solo la sensazione della reception, come dicevi tu, perché tante volte chiedi il numero di e ti rispondono io credo che. Cioè, l'io credo che purtroppo non è un numero, è una sensazione. Quindi, avere dei dati da poter analizzare sulla base di strumenti gestionali o strumenti di back-end che possono essere il sito, la pagina Facebook, eccetera. E saperli incrociare e leggere in questo momento è di fondamentale importanza. Questo ne sono convinto. Volevo tornare a leggere Luca su questo aspetto che abbiamo aperto. Cioè, digitalizzazione come leva di, sicuramente, ottimizzazione dei processi, come leva di potenziamento della mia capacità di dialogo e come leva di, diciamo, recupero strategico di informazioni. Sono tre capitoli grossi. Dammi un taglio un po' concreto. Cioè, cosa possiamo incominciare a scegliere in questi termini? Quali tipi di comunicazioni e quali tipi di analisi? per restingere il campo, per fare un primo step, ad esempio? Certo. Ma sicuramente è quello di analizzare quali sono... Cioè, segmentare, come si dice, demograficamente il nostro utente. Ora, per utilizzare un linguaggio molto più semplice, significa, come anche diceva prima Fausto, capire i comportamenti. I comportamenti possono essere analizzati analizzati in maniera analogica, facendo le domande al cliente e poi interpretando, è estremamente rischioso perché l'interpretazione dell'operatore, della receptionist, di chi parla col cliente, poi influenza in modo molto specifico quello che è la risposta, oppure possono essere analizzati in modo digitale. Quindi la tracciatura, come dicevi tu prima, è il percorso comportamentale del nostro cliente, sia in termini di tempo passato a verificare o ad analizzare dei contenuti, l'ingresso stesso, i tempi, gli orari nei quali il cliente entra o esce dall'impianto. Certo, se ha un corso di nuoto a quell'ora lì, l'orario è quello lì, non è che c'è tanto da analizzare, però la primo elemento, a mio avviso, estremamente importante, che è quello che suggerisco sempre di fare attraverso il database, è quello di segmentarli in modo generazionale. Noi ci comportiamo soprattutto con la tecnologia in modo diverso, a seconda che siamo degli X generation, non dico anche baby boomer, perché i novantenni che entrano negli impianti sono quelli che sono nati prima degli anni 50, negli anni 40, per cui hanno un rapporto completamente differente rispetto a un millennial di come si comporta con la tecnologia. A volte, la cosa è curiosa, l'avvicinarsi all'utilizzo di strumenti è quasi più veloce da parte di questa generazione più vecchia, proprio perché non vuole rimanere indietro nel modo di comunicare. Viceversa, se io non utilizzo i giusti strumenti con un ragazzino di 16 anni e non arrivo a mandargli il messaggio come deve arrivare, il messaggio parte, ma si disperde nella rete. Quindi la prima cosa da fare, a mio avviso, è proprio questa, cioè vedere come, chi sono le persone che vengono nel mio impianto a partire dalla fascia di età e di conseguenza a questo si comporteranno in un determinato modo. Questo, credetemi, dà la possibilità di vedere comportamenti molto differenti. guarda, questo aspetto che citi mi dai là all'ultimo passaggio. Allora, esperienza mia di Fausto ne parliamo spesso e di aver incontrato tanti gestori che purtroppo alla fine misurano la cassa, la cassa, la cassa. Si guardano in cassa e dicono le cose vanno bene, le cose vanno male e guardano la cassa. Il Covid ci ha insegnato che se guardiamo la cassa allora possiamo tutti tirare giù la seranda allora dobbiamo guardare a qualcos'altro. Quindi, al valore del cliente nel lungo termine come processo di lungo termine. Quindi, riportandomi sul binario della digitalizzazione, digitalizzo per raggiungere più velocemente i target. Ci hai spiegato Gianluca, li raggiungiamo in modi differenti perché il target è ampio, quindi il target piscina. Questi processi di comunicazione lasciano tracce di analisi interessanti e io adesso però vorrei tornare da Fausto proprio riallacciandomi a questo mi guardo la cassa. Bene, allora forse è anche il caso di incominciare e misurare il nostro successo come impianto non solo sulla transazione di oggi ma sulla capacità di ingaggiare nel medio lungo termine, giusto? Quindi quali possono essere gli strumenti? Prima gli accennari adatto ma immagino anche e-commerce, voucher, cashback, quindi dacci un tuo punto di vista, quali sono poi questi strumenti di gestione che mi permettono non di focalizzarmi solo sulla singola transazione ma su un ciclo di vita più ampio del cliente con il problema come diceva già Luca che sono degli zero ai 90 anni. Allora, intanto bisognerebbe capire se io fossi un gestore oggi la prima domanda che mi farei è a che punto sono a livello di digitalizzazione perché da lì partirei e inizierei a elaborare il mio percorso. Se fosse se io fosse già un buon punto oggi penserei a due strategie fondamentali una è quella di dire voglio che la mia piscina diventi un qualcosa che è in tasca del mio cliente quindi voglio avere un'app ma inizierei anche a utilizzare nuovi strumenti che si sono già entrati nella testa dei clienti. pensate oggi all'acquisto di Netflix piuttosto che l'Amazon Prime per averlo sono tutti strumenti che oggi si acquistano con un pagamento mensile ricorrente e il cliente mette dentro la sua carta di credito e da lì inizia a pagare finché non è stanco di guardare Netflix o finché non è stanco di ricevere i pacchi gratis da Amazon quindi bisogna iniziare mi sapevo che ridi Andrea difficilmente se ci si stanca di ricevere i pacchi gratis da Amazon deve entrare proprio una nuova logica dopo logico che qui si subentra su delle logiche di listino dove Gianluca è molto più bravo di me per oggi ci sono strumenti anche a livello di ingaggio del cliente che consentono di farli rientrare prima pensate domani riapriamo le piscine chi entra per dire oggi voglio comprare un annuale cioè è difficile pensare che qualcuno approcci il mercato perché magari fra due mesi non per colpa vostra qualcuno vi richiude devo facilitare enormemente la possibilità di entrata all'impianto e ci sono strumenti digitali l'applicazione è una il pagamento può essere un altro metodo che consentono questo la prenotazione del servizio banalmente cioè voglio venire a fare l'acquagim e voglio prenotarmela ma non devo più alzare il telefono devo guardare se c'è posto e me la prenoto anche customizzarlo quindi questo servizio anche customizzarlo la digitalizzazione perché sicuramente il processo digitale ci permette di confezionare su ogni singolo cliente un servizio diverso rispetto a uno standard perché come dicevi se io posso facilmente prenotarmi l'accesso posso compormi una sorta di mio pacchetto o mio stile di uso del centro ecco Gianluca su questo ti volevo un po' provocare cioè forse dobbiamo anche ripensare il fatto che il centro deve essere molto flessibile nella fruizione Fausto diceva flessibile nella formula commerciale per quel che vale io sposo pienamente la visione ma raccontaci invece come potrebbe essere anche un po' un'organizzazione flessibile del rapporto di fruizione cioè quali potrebbe come lo strumento digitale potrebbe aiutarci a confezionare prodotti più su misura ma la prima cosa che mi viene in mente ed è una è un approccio puramente strategico commerciale per esempio è quella della Fausto parlava di prenotazione attraverso la app per prendere il posto immaginatevi le restrizioni abbiamo una vasca nella quale possiamo contenere per via di quelle che sono appunto le normative 10 persone e se riusciamo a gestire in modo flessibile questo tipo di prenotazione possiamo anche cambiare i sistemi in base a quello che è la sequenza delle prenotazioni ci sono delle app esistenti e lo fanno tante strutture questo fuori dall'acqua più a secco che cambiano per esempio in un'attività normale quindi non in questa fase covid e post covid ma in un'operatività normale a seconda come fanno del resto i sistemi di prenotazione alberghiera e i sistemi di prenotazione aerea io ho una sala da 20 persone a seconda di come l'ho riempita metto sull'app e sul mercato il prezzo diverso per poterla riempire fin quando la saturo questo qui è un meccanismo automatico di ottimizzazione per esempio in questo caso del ricavo che è prima di tutto automatico poi è straordinario e fa arrivare un messaggio al consumatore che ci sono ancora due posti li vuoi comprare costano 3 euro riempio la sala questo è un esempio specifico su quello quindi strategia digitale vuol dire questo cioè vuol dire ottimizzare i sistemi creare un ecosistema che gestisce i comportamenti e li mette a vantaggio e li fa gestire a vantaggio del business poi è chiaro che a monte ci deve essere un approccio strategico e manageriale strutturato voi avete parlato di pagamenti ricorrenti è una forma di pagamento di centinaia e centinaia di differenti servizi che il gestore dell'impiantistica fa sempre fatica ad ascoltare non solo ad interiorizzare è una questione di strategia è una questione di managerialità e di dire il mio impianto adesso ha bisogno di questo e quindi cambio la modalità di gestione dei pagamenti lo faccio così se mi serve non è che deve essere obbligatorio aspetta un secondo Andrea mi inserisco un attimo su quello che sta dicendo Gianluca perché il digitale può diventare anche lo strumento che abbatte la paura nel ritornare in piscina cioè pensiamo un domani che riaprono e devono ricostruirsi il piano vasca e reinserire tutti gli iscritti quindi con tu lo sai benissimo Andrea l'hai visto anche con me in tanti impianti le code delle persone alla scadenza del periodo per pagare l'abbonamento togliamogli questa paura vai online e pagati l'abbonamento quindi a quel punto ti aiuto a rientrare ti metto in sicurezza l'impianto ti dico che hai già pagato hai già pure la tua tessera in mano per il controllo accessi arrivi timbri ti fai la tua lezione te ne vai a casa le piscine sono uno dei posti più sicuri lo sappiamo tutti benissimo aiutiamo sta gente a farli rientrare io guarda quello che ti volevo aggiungere è che secondo me la parola chiave da aggiungere è fiducia nel senso che quando si parla di pagamenti ricorrenti o anche di sicurezza di processi digitali l'arma il vantaggio della piscina è che è un posto fisico cioè è un posto che poi ci vai la gente la incontri quindi secondo me si può azzardare come dicevi tu prima a chiedere un atto di fiducia di lasciarmi la carta di credito o comunque di gestire in un modo abbastanza dinamico certe prassi perché mi incontri perché mi vedi perché ci sono sono un luogo fisico non sono un'app dove dietro non si sa cosa c'è sono un'app dove dietro ci sono persone che incontri secondo me questo è un aspetto che può veramente dare una mano ai nostri gestori nel buttare il cuore oltre l'ostacolo di certi tipi di processi cioè la gente si dovrà fidare di voi per tanti aspetti tanto vale che si fidi anche su questi processi allora il tempo ci sta correndo poi Sara ci tronca tutto quindi io devo cominciare a tirare le fila allora me l'ho tenuto la domanda più cattiva in fondo quindi dopo mi potete insultare a microfoni spenti ed è ragazzi tutto bellissimo ma qua i nostri gestori hanno una fish da giocare e c'è da puntare un numero sperando che esca quello forse non è questione di fortuna questo giro però facciamo finta che un po' lo sia anche allora Gianluca hai una fish da poter puntare dove la punti ma qui non è questione di fortuna qui è questione proprio di sparare one shot one kill devo sparare un colpo dove è giusto spararlo perché ne ho uno solo ma allora a priori a mio avviso la cosa principale da fare è fare un check up di qual è la situazione e questo è gratuito questo non costa molto una volta che ho fatto il check up vedo dove sono debole definisco la priorità se la mia prima priorità è quella di mettere il controllo accessi fa se la diceva prima che è la cosa più banale allora la fish la metto lì se io il controllo accessi ce l'ho già ho già una app ho già un software strutturato un crm che mi fa lavorare allora la fish la metto su quella che è l'upgrade di questi meccanismi affinché io possa ottenere gli obiettivi che ho bisogno di raggiungere quindi la fish la metto dove la devo mettere in questo senso è una risposta un po' banale però no 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 ci sarà cioè tu dici la fish la tua messa sull'analisi perché se conosci il tuo punto debole poi spari lì se non lo conosco allora la metto lì se non lo conosco vado in una in un poliambulatorio pago una radiografia ditemi cosa devo fare la prima la fish l'abbiamo giocata Fausto ne è rimasta un'altra ma guarda io concordo in piedi con quello che dice Gianluca cioè anche dal punto di vista digitale facciamo un check up e vediamo se la fish va bene sul tornello piuttosto che sull'applicazione io quello che mi sentirei di dire oggi ai gestori è quello che abbiamo detto all'inizio però investite del tempo sull'analisi del dato quindi partiamo dal presupposto che ci sia un database mettete una fish lì e analizzate bene il dato dopodiché dal dato partiamo con la comunicazione e dalla comunicazione si parte in digitalizzazione il dato oggi è fondamentale l'abbiamo detto due volte all'inizio con la comunicazione poi l'abbiamo arrivato anche con te andrà sulla seconda battuta io oggi se fosse un gestore è un gestore quindi informatizzato perché se parliamo di foglio Excel purtroppo siamo come diceva Gianluca il primo check up e quindi siamo ma partiamo dall'analisi e analizziamo il dato capiamo come vogliamo comunicare con i clienti e poi mettiamo la fish sull'applicazione sul tornello su quello che vogliono però oggi mi raccomando hanno i gestori di piscina informatizzati hanno una mole di dati paurosa tante volte non controllata non analizzata non studiata oggi più che mai mettete la fish lì dedicati del tempo mettete la testa e dopodiché da lì partite perché è una vera di partenza per tutti Sara io ti consiglio la linea non so come si dice in questi casi se vado avanti a torchiarli dopo vado oltre la convenzione di Ginevra quindi no ma anche perché siete stati bravissimi nei tempi ok non vorrei rischiare minacce personali no grazie grazie mille a tutti invece è stato molto stimolante ascoltarvi però io stanotte non dormo se questa ultima domanda non posso farla anche ad Andrea quindi ah beh va bene brava Sara brava allora io per dai faccio fuori dal coro perché in realtà concordo con quello che hanno detto loro ma così per gioco dico vabbè allora ho una fish puntiamola sull'e-commerce e sul cloud via dai così do un po' per scontato che serva a tutti ma poi magari mi sbaglio no giusto ne abbiamo una buttiamola lì e-commerce e cloud sicuramente non sarà mai un brutto investimento poi mi è piaciuto molto l'intervento di Fausto e di Gianluca che sono riusciti a dare degli spunti concreti fatemi fare un appello allora visto che posso giocare in ultima parola digitalizzazione o adesso o mai più ragazzi non c'è la tua opportunità ma guarda Andrea noi è un po' che spingiamo sulla digitalizzazione del covid ha dato veramente la botta che noi non eravamo riusciti a dare come player di mercato di digitalizzazione e secondo me è così o adesso o mai più è sicuramente diventata una necessità una necessità quindi io vi ringrazio ringrazio Andrea ringrazio Gianluca ringrazio Fausto grazie veramente apprezzo moltissimo anche il fatto che persone che sul mercato rappresentano brand concorrenti in realtà si siano messe a disposizione per il bene del comparto quindi grazie veramente grazie a tutti grazie grazie a presto ciao buona giornata a tutti grazie 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 a tutti